Nel presepe la tenerezza di Dio ci parla, un Dio che per la sua grande misericordia è sceso verso di noi per rimanere stabilmente con noi. Lo ha detto Papa Francesco ai donatori del presepe e dell'albero di Natale allestiti in piazza San Pietro e incontrati in Aula Paolo VI. Il Papa ha ringraziato i rappresentanti della provincia di Trento che insieme all'Arcidiocesi ha allestito il presepe e le autorità dei comuni bavaresi di Schaus, Schneiderbach e Freudenberg che hanno donato l'albero natalizio. E si è congratulato con i piccoli artisti che hanno decorato l'albero con addobbi che raffigurano i loro sogni e ora sono affidati al bambino di Betlenne. Gesù infatti, ha spiegato il pontefice, è venuto a condividere la nostra vita e ad accogliere i nostri desideri. Il presepe si dice inoltre che egli non si impone mai con la forza. Ricordate bene questo voi, bambini e ragazzi, il Signore non si impone mai per la forza. Per salvarci, non ha cambiato la storia compiendo un miracolo grandioso. È invece venuto con tutta semplicità, umiltà, mitezza. Dio non ama le imponenti rivoluzioni dei potenti della storia e non utilizza la bacchetta magica per cambiare le situazioni. Si fa invece piccolo, si fa bambino, per attirarci con amore, per toccare i nostri cuori con la sua bontà umile, per scuotere con la sua povertà quanto si affannano ad accumulare i falsi tesori di questo mondo. Per questo San Francesco ha inventato il presepe, ha proseguito il Papa, per far vedere i disagi in cui si è trovato il bambino Gesù. Per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato. Nel presepe la tenerezza di Dio ci parla, ha concluso come ci parla la sua misericordia nel personaggio che si china per aiutare un anziano, inserito nell'allestimento trentino.